Ciao a tutti, ciao a tutti velisti e non velisti. Ecco, già, anche non velisti perché la persona che abbiamo ospite oggi è veramente tascende, tascende il mondo della vela. Il suo nome è già scolpito nella storia, vabbè non voglio dilungarmi troppe presentazioni. Ovviamente lui è Giovanni Soldini, è il navigatore più famoso d'Italia, ancora adesso l'unico italiano ad aver vinto un giro del mondo in solitario e soprattutto a Giovanni va dato il grande merito di aver reso popolare, ma veramente popolare, la vela oceanica. Niente, nel nostro incontro, come sempre, come tutti i nostri incontri del giornale della vela, potete fare tutte le domande che volete, ci seguite, ci state seguendo nella diretta sulla nostra pagina Facebook, siamo in diretta anche sul nostro canale YouTube e ovviamente non siamo da soli perché assieme a noi, un grande supporto, c'è la Lega Navale Italiana a sezione di Milano e infatti ad accompagnarci assieme a Giovanni Soldini ci sarà anche con noi Paolo Martano della Lega Navale di Milano e soprattutto vicepresidente del centro velico Caprera. Paolo, ci sei? Sì, eccomi, buonasera a tutti, buonasera a tutti quelli che sono intervenuti e che sono collegati con noi. Sì, è una serata, è un momento di incontro con Giovanni, il rapporto che c'è tra Giovanni e la Lega Navale è un rapporto che nasce da lontano, dai tempi di Kodak, poi casomai ne parleremo più in dettaglio e Giovanni ha avuto l'opportunità di conoscere, di frequentare la Lega Navale e di avere la possibilità di utilizzare anche la nostra sede qua di Milano in più occasioni, è uno dei nostri soci, chiaramente ci fa l'immenso piacere di averlo come socio e questa sera parleremo con lui e soprattutto parleremo di Giovanni Soldini perché Giovanni Soldini è un marinaio innanzitutto ed è il punto fondamentale che ci interessa perché Lega Navale vede il discorso legato alla cultura del mare e al navigare, al saper navigare e quindi Giovanni ne è senz'altro un grosso esempio, quindi direi di iniziare. Sì, sì, esattamente, giusto, una sola postilla, è vero, anche Giovanni, anche noi del giornale della vela siamo molto legati a Giovanni che è stato bellista dell'anno nel 95, poi dopo sveleremo anche qualche altro retroscena, ma direi di partire Paolo dalla fine fondamentalmente, partiamo dalla fine. Sì, da poco tempo fa, dai facciamo partire esatto, dai facciamo partire questo video, regia. Grazie. 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 Ahi, eccoci. Eccoci dunque, beh, le line honos alla Rolex Middle Sea Race sono sempre le line honos alla Rolex Middle Sea Race. È giunto il momento di dare il benvenuto al nostro ospite, Giovanni Soldini da Tarzana. Buongiorno, buonasera a tutti. Ciao Giovanni, ciao. Com'è? Prima cosa, com'è? Com'è la situazione lì in Liguria, questa pandemia, insomma, che ci tiene bloccati in casa, tu che sei abituato spesso a stare molto tempo da solo, anche, cioè sei stato abituato, come la stai vivendo? Ma noi abbiamo, per fortuna, abbiamo un momento di grosso lavoro in cantiere, per cui la barca è praticamente sul magra, a quattro chilometri da casa mia, e quindi viviamo normalmente, cioè siamo la mattina, andiamo in cantiere e torniamo la sera, e ovviamente non c'è nessun tipo di vita sociale, ci siamo divisi, siamo molto attenti in cantiere, sempre mascherine, eccetera, poi lì ovviamente è un ambiente all'aperto, insomma, c'è molto ricambio d'aria, eccetera, per ora, corna facendo, è andato tutto bene. Ok, ed è andato comunque, anche tutto bene, alla Rolex Middle Sea Race, no? Giusto, anche Paolo, raccontiamo un po', raccontaci un po' di questa regata, com'è andata? Ah, la Rolex, quest'ultima edizione è stata molto, molto bella, divertente, anche perché, beh, innanzitutto avevamo un assetto mod, quindi eravamo identici al nostro concorrente diretto, e questo sicuramente l'ha fatta diventare una regata diversa dal solito, perché ovviamente quando siamo volanti, con i foil volanti, in qualche modo abbiamo qualche vantaggio, diciamo, sopra i 16 nodi di vento e sicuramente un bel po' di svantaggi invece con meno vento sotto i 12, gli 11, i 10, praticamente siamo quasi fuori dai giochi, insomma, per cui invece due barche identiche, ovviamente è molto, molto bello, e abbiamo fatto una ragazza pazzesca, sempre a vista, sempre vicinissimi, cioè di notte ci illuminavamo a vicenda con una torcia a mano, per cui eravamo sempre lì a pochi metri, fino a che, per una questione, Vittorio Bissarro è stato molto bravo, abbiamo fatto due strambate giuste, abbiamo preso un po' di vantaggio e basta, la ragazza si è chiusa lì, però è stata molto divertente. Praticamente un match race, mi pare di capire, quasi, no? Beh, sì, sono due barche identiche, a bordo c'era comunque un equipaggio super quotato, con un equipaggio inglese che peraltro incontriamo spessissimo su tutti i mod in giro per il mondo, per cui li conosciamo molto bene, e sono dei ragazzi piuttosto svegli, e tenerli dietro non è facile. Senti Giovanni, se mi permetti, do giusto due dati sul Multi 70 Maserati, giusto per far capire di che cosa stiamo parlando, a parte che già nel video, allora sono 21 metri e 2 di lunghezza e 16,80 di baglio, di larghezza, abbiamo un albero da 29 metri e una stazza di 6 tonnellate e 3. La cosa impressionante sono le vele, io stavo facendo il calcolo di quanti miei, il mio appartamento quante volte ci sta, ci sta tante volte, perché nell'andatura portante voi esponete qualcosa come 409 metri quadri di vele. La domanda è come gestire vele di questo genere e soprattutto qual è il tipo di reazione che ha la barca e quali sono i giochi di forza che ci sono in ballo, anche in relazione all'utilizzo dei foils, in relazione ovviamente a alberi e così via, che sono le parti più critiche, mi pare di capire. Ma innanzitutto la barca cambia molto se ha i foil volanti o se ha i foil AC normali, diciamo che paradossalmente con i foil volanti innanzitutto ha bisogno di meno vela, quindi ha un piano velico più basso in genere, vele più piccole, ed è sicuramente più sicura dal mio punto di vista, nel senso che c'è un controllo dell'assetto longitudinale molto molto maggiore, e quindi non sei mai diciamo al limite, non ti senti mai stressato da… seppur magari appunto le velocità sono demenziali, hai sempre un ottimo controllo dell'assetto della barca longitudinale eccetera. Mentre invece in versione mod, la barca ha bisogno di più vela sicuramente, fa angoli più aperti, per cui per esempio in polpa piena magari fai 4-5 gradi più basso, navighi più basso, ma navighi molto più in velato, per farti un esempio, magari noi se navighiamo volanti a 120 gradi al vento reale con i foil, con 20 nodi, 21 nodi, magari abbiamo una mano alla trinca, in versione foil avresti tutta Randa e Genoa come minimo. Sì, infatti. E quindi in realtà la barca con i foil è più… non so, a me mi sembra nettamente più sicura, è più leggera, è sicuramente molto adrenalinica, ma in realtà il tuo controllo è maggiore. Ecco ma Giovanni, scusa tu, non provare a rispondermi che sono esperienze diverse, però preferisci il monoscafo, tu che hai navigato tantissimo, o il multiscafo? Ma io ovviamente a me piacciono tutte le barche, voglio dire, sicuramente ho avuto la fortuna di navigare su molte barche molto belle, sicuramente i multiscafi per ora hanno qualcosa di più, nel senso che sono barche che hanno quasi l'acceleratore, dove sei tu che decidi di rallentare in qualche modo, hanno un rapporto peso-potenza pazzesco, perché la vera cosa è proprio la capacità di raddrizzare, di un multiscafo che non avendo la chiglia ha molta potenza, ma rimane comunque leggero. Ma se tu dovresti andare in crociera su una barca, sceglieresti un catamarano o un monoscafo? Ma in crociera probabilmente sceglierei un monoscafo, dipende che tipo di crociera, ma sicuramente non sceglierei un catamarano da crociera, questo no. Va bene, va bene. No, senti, hai detto una cosa interessante, che era il discorso della superficie velica con foil e senza foil. Mi riallaccio un po', non so se tu hai avuto modo di leggerlo, c'è stato un intervento di Ciccio Manzoli, un articolo che è uscito sulla Gazzetta ultimamente, e parlava appunto del discorso però di quanto viene messo sotto stress, per esempio l'alberatura, quindi l'albero nel momento in cui con i foils la superficie velica viene mantenuta, ma nello stesso tempo la compressione, quindi gli stress. Quello è un problema diciamo delle barche del Van de Glove, nel senso che lì c'è una stazza che dice che gli alberi e le chiglie sono monotipo, quindi tutti hanno lo stesso albero. Ovviamente in questi anni le barche hanno messo i foil sempre più lunghi, sempre più efficienti, sempre con maggiore spinta, ma questi foil alla fine servono moltissimo anche per raddrizzare, quindi aumentano il raddrizzamento. Chiaramente aumentando il raddrizzamento, se tu hai sempre lo stesso albero di prima, dove i foil non ce li avevi, è chiaro che l'albero va sul stress e quindi diventa l'anello debole della catena, ma questo si sapeva e si è visto già nei mesi scorsi, anche nella regata che hanno fatto nelle acque del nord, eccetera. Per esempio Boris Ermas ha strappato l'hook della penna della randa con un pezzo di rotaia attaccato, cioè è ovvio che avendo l'albero monotipo e tu modifichi le barche per farle diventare più potenti, più potenti vuol dire più raddrizzanti, più raddrizzanti vuol dire più carico sull'albero, quindi è chiaro che l'albero è la prima cosa che si rompe su queste barche di oggi che hanno fatto passi da gigante rispetto a 4-6 anni fa, 8 anni fa, ma gli alberi sono gli stessi. Ecco, hai iniziato ovviamente tu a parlare di Van de Globes, che è il giro del mondo in solitario, Paolo che dici se ci spostiamo un attimo su questo argomento e chiediamo a Giovanni, ovviamente che sta seguendo la regata, la regata che sta facendo il nostro italiano Giancarlo Pedote? Io penso che il Van de Globes è una regata molto lunga, cioè bisogna ricordarselo, loro sono un terzo della strada oggi, c'è stata sicuramente una serie di episodi che hanno scremato la flotta in maniera anche importante e alla fine Giancarlo è una barca molto veloce, molto affidabile, cioè tu guardi la classifica, in fondo insomma le barche del 2015, dell'anno della barca di Giancarlo, sono sicuramente barche super competitive, mi sembra che oggi di barche più moderne davanti a lui ce ne siano ben poche, insomma, uno o due, forse tre, e quindi direi che è lì, per ora mi sembra abbia un po' meno di 600 mila di ritardo, sicuramente le barche in testa, soprattutto il primo ha avuto, diciamo, un passaggio dell'altra pressione che gli ha permesso comunque di rimanere davanti al fronte freddo per un sacco di tempo, quindi in qualche modo naviga in un altro sistema meteorologico, ma la regata è lunghissima, possono succedere ancora tante cose, le barche con i foil più estremi sicuramente sono soggette a molto più stress, a livello sia dell'albero che di tutte le attrezzature, della struttura, eccetera, per cui vediamo, la regata non è finita, e secondo me Giancarlo può fare una super regata. Sì, ma poi è così, anche dalla tua storia, ci puoi raccontare tantissime situazioni che appunto possono modificare sostanzialmente una regata. Quello che ha fatto... Scusa, scusami, i commenti del pubblico, ovviamente stanno arrivando un sacco di commenti su Grande Giovanni, Mito della Vela, Serena ci chiede appunto, punteresti su Pedote quindi, cioè gliela lanciamo? A punteresti su Pedote che cosa? Soldi? Soprattutto no, soprattutto non partiamo gli sfiga, come si dice. Ecco, quindi... No, io quello che volevo dire è che appunto, secondo me Giancarlo ha una grande barca, ha sicuramente molta energia, molta voglia, è un tipo molto determinato, può fare una regata sicuramente in testa o comunque nei primissimi posti, la regata è ancora molto lunga, ovviamente lui ha una barca che ha qualche anno e che non è l'ultimissima generazione, però è comunque una generazione, come dire, che non è un cattorcio, per essere... Ha una super barca, è una barca del 2015, uguale a quella di Boris Herrmann, è una barca che può fare tante, PRB per dire è molto più vecchia, per cui... Però ha un grande vantaggio, secondo me, cioè secondo me la cosa debole, diciamo, di questo Van de Globe e di tutti i team, diciamo, più agguerriti con le barche nuove è stato proprio l'aver navigato pochissimo, cioè alla fine Ugo Boss ha fatto il pettino della Jacques Vabre, ha rotto la chiglia, è tornato indietro, ha fatto sei mesi di cantiere, quattro uscite di prova, poi è partito per il Van de Globe. Secondo me, ecco, una barca ben rodata è sicuramente un mezzo che è migliore su una regata così lunga, cioè io nel mio piccolo, insomma, con fila, quando ho fatto il giro del mondo, con fila, prima di fare il giro del mondo mi ero fatto tre, quattro oceani, insomma, volevo fare il New York Francisco addirittura, poi anche noi abbiamo avuto come normale che sia su una barca nuova dei danni che abbiamo riparato a Charleston durante i mesi invernali e insomma è normale che sia così, perché chiaramente quando fai una barca nuova è piena di soluzioni innovative e non tutto sempre funziona così al primo colpo, hai bisogno di un minimo di rodaggio, di capire e di mettere a punto. Infatti, vai, vai, quando si leggeva... Io a Boris che e Giancarlo hanno due barche che sono dello stesso anno, stessa degenerazione, la differenza rispetto ai team, diciamo, top è che le loro barche hanno già fatto il Vandeglob, hanno già fatto più di una trasoceanica, due, tre, quattro trasoceaniche, quindi sono barche che tendenzialmente sono affidabili e questo è sicuramente una carta da giocarsi. Adesso ci sono i mari del sud, vedremo. Ecco, arriva subito, hai visto, arriva subito una bella domanda di Fede Moro che dice ma perché non hai partecipato Giovanni al Vandeglob? Perché? Beh, innanzitutto per partecipare al Vandeglob ci vuole un budget importante, io sicuramente c'è stato un momento della mia vita in cui potevo fare più o meno quello che volevo, che è stato dopo aver vinto il Giro del Mondo diciamo nel 99-2000, devo dire che come filosofia così mi è sempre un po' dispiaciuto che il Vandeglob sia diventato una regata che si fa tutti quattro anni come la Ostar come tutte le altre perché io l'ho sempre considerato veramente l'Everest della vela e una regata che invece non è come le altre perché in qualche modo passi tre mesi da solo parti tendenzialmente in un posto dove piove quasi sempre e arrivi sempre nello stesso posto ci vuole veramente tanta voglia in più stai da solo tre mesi nei mari del sud fa un freddo cane cioè il primo Vandeglob che ho vissuto da spettatore mi ricordo c'erano tre milioni di persone ad aspettare l'ultimo arrivato oggi è diventata una regata normale perché perché hanno deciso di farla tutti e quattro anni e alla fine è successo come quello che io non volevo che succedesse cioè che c'è gente che magari ha fatta quattro cinque sei volte appunto uno come Thompson si permette di partire con una barca che di fatto non è preparatissima cioè è la terza volta che comunque ha dei grossi problemi al Vandeglob intanto se non va bene quest'anno lo farai tra quattro anni la grande fascino secondo me del Globe dell'89 è stato che il fatto che era una regata one shot cioè tu la potevi fare una volta con quelli della tua generazione e quello era veramente interessante cioè c'era gente che partiva con otto piloti due rande quattro testa d'albo capito e certo non sapevano dove stavano andando quasi ma voglio dire c'era uno spirito pionieristico ma anche di che prima di tutto bisognava arrivare e questo secondo me è bello nel senso io mi ricordo un mio più o meno coetaneo parlier che ha disalberato nei mari del sud si è fermato sull'isoletta recuperando i pezzi di albero l'ha rimesso insieme l'ha rincollato l'ha rimesso su da solo ed è arrivato l'Essabdolon questo è per me il Vandeglobe quindi manca lo spirito un po' romantico nel senso tecnico della parola la vera sfida è quella lì fare il giro del mondo senza scalo senza assistenza in fondo quando mi è successo di poterlo fare diciamo facilmente ho scelto di fare invece un trimarano perché mi sembrava un'esperienza che non avrei mai potuto fare altrimenti poi in realtà invece sono il secondo trimarano quindi Giovanni tu mi comprendi magari c'è un po' tempo di fare un Vandeglobe no infatti se trovi il budget lo sta facendo comunque se c'è qualcuno in ascolto disponibile sappiamo che Giovanni anche lui è disponibile a farlo quindi organizziamoci di conseguenza c'era qualcuno che diceva non siete in diretta allora sono le 18 e 27 in questo momento vi saluto che siamo in diretta ecco Giovanni appunto il discorso un po' della ricerca vedere troppo veloci io non leggo così veloce che cosa? i messaggi di incontri non voluti con oggetti che creano danni notevoli sì e infatti prima o poi ci arrivavamo però se mi permetti vi faccio ancora una domanda che è un po' legata a quello che stavi dicendo tu quindi la scelta che tu hai fatto ultimamente sia con il VOR 70 Maserati ma anche con il Multi 70 sono delle scelte in parte per determinate regate o per la ricerca di tempi in assoluto e quindi di vincere dei percorsi pazzeschi sono un po' la ricerca appunto dell'andare a constatare a tastare il rischio e se vogliamo anche l'avventura e comunque il far qualcosa di veramente significativo e non quindi qualcosa di routine o mi sbaglio ma diciamo che noi dunque con Maserati è nato tutto un po' per caso forse no perché sai che la realtà è che tutto è nato perché diciamo io ho un po' convinto John Elkan a comprare Ericsson 3 per fare la Volvo in realtà e l'idea era che appunto con lo Yacht Club italiano con la FIVA le SPAL eccetera avremmo sicuramente trovato un budget per partecipare alla Volvo invece così non è andata però ormai lui la barca l'aveva comprata e siccome aveva comprato questa barca io dopo un po' che la barca era ferma gli ho scritto gli ho detto senti io avrei un'idea potremmo modificarla migliorarla e usarla e usarla per fare regate e grandi record che bene o male nessuno ha fatto con dei monoscaffi ottimizzati per cui è così che è nata la cosa di Maserati con un budget molto più umano e con l'idea appunto di avere di fare di modificare Ericsson 3 è farla diventare una barca un po' diversa e andare a fare delle cose epiche dei grandi record ma anche delle regate e così abbiamo fatto poi da cosa nasce cosa Maserati è piaciuta molto l'esperienza è piaciuta soprattutto anche molto l'esperienza dei drive and sail che facciamo che abbiamo sempre fatto insomma con la barca Maserati e allora poi abbiamo pensato a Trimarano questa è un po' la cosa il problema è che per fare questo mestiere non è semplice ci vogliono un sacco di soldi e per chiedere dei soldi alle aziende bisogna anche avere delle idee e cercare di rendergli una cosa di valore in cambio se uno lo vuole fare per tanto tempo per cui in questo caso sia l'esperienza con il monoscafo che l'esperienza col Trimarano penso che siano state due cose molto interessanti per tutti sia per noi per quelli che hanno lavorato con me per quelli che hanno navigato sia per Maserati che comunque ha avuto sicuramente un buon ritorno sia di immagine che proprio di business perché quindi comunque lo sponsor c'è uno sponsor affidabile è molto importante ho visto che è arrivata una domanda di Paolo se la regia me la può mostrare se Giovanni stai trasmettendo il tuo modo di vivere la vela a qualcuno dei giovani e questo secondo me apre a un altro tema no? qualche altro velista all'altezza adesso appena vinto è stato appena insegnito dell'amborgino d'oro Ambrogio Beccaria se non sbaglio ce l'hai anche tu Giovanni cosa ne pensi di Boggi? Beh Ambrogio sicuramente è dimostrato è stradimostrato di essere un super velista molto in gamba e di avere lo spirito giusto io lo conosco bene siamo anche molto amici quando ha comprato il suo Pogo tre nuovo l'abbiamo ospitato a alla Trinité sotto il braccio del Trimarano nel nostro cantiere perché dove non avevo un posto quindi il cantiere era di un mio amico che è Marco insomma era lo vecchio skipper di Biscuit la Trinité prima e poi di Saffron dopo eccetera ed è uno che conosco molto bene allora l'ho chiamato e gli ho detto Marco senti noi ti abbiamo affittato lo spazio del Trimarano però c'è sto ragazzo che merita di essere aiutato un italiano eccetera e c'è un mini e lo metteremo tra i bracci e chiaramente non pagherà niente Marco mi ha detto ma sì ma certo non c'è nessun problema e quindi Borgia è passato tre mesi lì a montarsi la barca ed è stato molto carino insomma molto bello poi gli abbiamo portato fortuna perché da lì in poi non ha più perso una regata eh sì è veramente è veramente la costanza di Borgia è veramente impressionante impressionante ma ecco ti faccio ancora una domanda che differenza vedi tu tra i nuovi navigatori cioè i giovani e invece e tu quando eri giovane cosa è cambiato cosa è cambiato è cambiato tutto sono cambiate un sacco di cose perché io quando ero giovane il mio primo digitale del mondo ragazzi non c'era il gps non c'era il telefono si parlava con Pierluigi radio amatore di Ravenna radio amatore una volta ogni due volte a settimana e quindi cioè il mondo era diverso ehm però ognuno vive il suo tempo cioè è giusto così no oggi c'è invece oggi c'è il gps il telefono gli fa il grib adrena mille cose che io trovo anche molto stimolanti poi dopodiché eh sicuramente anche l'asticella si è alzata le perfono sono più alte quindi nessun problema io quello che conta è la passione la voglia eh e l'attitudine cioè secondo me il fatto di stare bene in mare io quando vedo certe volte si vedono velisti che lo vedi che ti dici ma cosa ci sei andato a fare perché questo è un po' il trucco questo è generale e felice dici oh bene bello invece se vedi uno che sembra di lamentarsi dicono no beh ci ha allora Rinaldo Santi allora quando hai ritirato la prima barca volante nel golfo di Biscaglia hai avuto uno spiacevole episodio anche dentro gli stivali stivali sì stivali ok più capitato con queste barche eh è più capitato con queste barche chiede Rinaldo non ho capito a cosa si riferisce comunque comunque barca volante barca volante c'ha i suoi pro i suoi contor sicuramente come dicevo prima con poco vento è una barca handicappata in qualche modo che va di meno perché ha tanta superficie bagnata e quindi non riesce finché non riesce a volare o comunque alleggerire molto non giustifica tutta quella superficie bagnata in più quando invece inizia a volare e alleggerire molto è veramente fantastica cioè è una roba eh per me è una cioè è una libidina ragazzi ve lo dico cioè per me volare con un trimarano lungo venti metri è una roba fantastica è chiaro che poi dopo ritorna a essere un problema quando invece magari c'è forza otto ecco quando c'è mare grossolo le onde eccetera allora tutti questi pezzi che c'è nell'acqua che comunque hanno una superficie importante possono diventare dei problemi ed è per questo che anche con Maserati abbiamo fatto comunque tantissima evoluzione no? anche perché essendo un po' i primi a pensare di fare delle robe così sicuramente siamo anche quelli anche contando diciamo i trimarani di centopiedi siamo quelli che hanno un assetto volante un po' più aggressivo nel senso abbiamo un foil più grandi rispetto alla barca se lo paragoni a che ne so a un centopiedi come gitana quindi poi siamo stati comunque i primi appunto a mettere il foil sulla deriva a dire vai facciamoci un oceano volante eccetera eccetera chiaramente è stato un percorso lungo e pieno di gioie e dolori come sempre in questi casi per cui un sacco di cose che hanno funzionato molto bene un sacco di idee che invece non hanno funzionato un sacco di cose che sono risolte felicemente altre che invece ancora dobbiamo risolvere tra l'altro scusate mi sembra aggiornamento in diretta dal Van de Globe esatto appunto Escoffier ha acceso l'epierb quindi è abbandonato e pare che le cam stia andando a precarlo quindi adesso infatti vedo che il libro ci ha scritto anche insomma vedi alla fine ce n'è di romantico anche in questa Van de Globe ecco sicuramente beh ricorda qualcosa no? esatto ci ricordo un po' qualcosa sembra brutto la dire ma capita cosa del fagiolo per parlare di quello di cui Giovanni non era previsto no no non era previsto non era previsto a noi gufarla figurati però ecco c'è un motivo per cui Giovanni Soldini è diventato Giovanni Soldini anche anche e secondo me se la regia ci manda un video possiamo capire perché perché ecco ricordi come si dice il bello esatto ricordi il bello della diretta tutta le solite cose ok quello che ho detto abitualmente però insomma vediamo se o è pure ecco adesso parlo ok grande che succede? ecco ecco sempre l'audio ecco 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 un po' tutto, però è una buona posizione, un po' di tranquillo, ma dovremmo provare a provarlo, se non è uno scherzo, vuole una barca ribaltata a mezzo normale. Speriamo, guarda, questa è una mancanza buona. Prove a casa! Prove a casa! Grazie! 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 Grazie, con queste cose qua che facciamo durante questo periodo viene a mancare sempre una cosa che è l'applauso. Io invece te lo faccio perché io mi ricordo che cosa è stato quel momento e le persone che vanno per mare hanno capito che cos'era quel momento. immagino che cosa è stato per te, soprattutto quando hai trovato Isabel, però vorrei ricordare anche una persona che è chi ti ha condotto da Isabel, corretto? C'era... Sicuramente! C'era Pier, Pier Lanier, ma più tanto perché appunto in quei momenti lì è talmente un... innanzitutto appunto già quella era un'altra epoca, avete visto la carta dell'agrafa con l'isobare della depressione? Oggi non si naviga più così praticamente, una carta del genere che è grande, cioè da capo ornaca, buona speranza e c'hai l'isobare della depressione, a pensarci oggi non so neanche come si faceva, cioè obiettivamente, invece si riusciva benissimo. E' incredibile come il tempo passa, le cose cambiano e in realtà si perde un po'. Mi è andato via tutto, ma... Ci sei, ci sei. No, 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 ci sei, ci sei, sei in evidenza, vai, tranquillo. Ah, mi si è bloccato tutto, vabbè. Niente, che dire, sì certo, quello è stato un momento molto difficile, soprattutto di grande stress. E quello che è successo è che sia i neozelandesi che i cileni, che i francesi, che gli italiani mi chiamavano tutti a me per darmi informazioni, quelli che si occupavano del rescue, diciamo, no? E quindi a un certo punto ho detto, no, io così però non ci sto dentro. E quindi per fortuna ho questo grande amico che è Pier Lanier, che è una persona veramente d'oro, e che mi ha... ho sempre preparato le mie regate con lui e mi ha sicuramente insegnato moltissimo sulla meteorologia, quindi ho chiamato lui e ho detto, Pier, facciamo che tu parli con tutti, raduni l'informazione, poi parliamo di te e decidiamo dove andare a cercarla. Poi chiaramente Isabella aveva un EPIRB, però un EPIRB da una posizione che è approssimata più o meno a 10 miglia, perché è fatto per gli aerei che poi hanno un radiogoniometro e ti trovano con il radiogoniometro. Chiaramente noi il radiogoniometro non ce l'avevamo e quindi 10 miglia comunque in un mare del sud così insomma iniziano ad essere tante. C'è anche da contare che Isabella era a 60 e 30 sud, cioè in un luogo dove oggi a Van de Groot non ci si fa neanche più, perché c'è tutta quella linea scura che si vede sulla carta dove è vietato navigare, per cui all'epoca i limiti erano pochissimi e spesso ce li mettevamo noi, ci mettevamo noi d'accordo, semmai per non passare in un posto troppo pericoloso, ma le regate erano assolutamente aperte. Ma quante volte ripensi ancora a quell'episodio? Ogni giorno ci ripensi? Ogni volta che me lo chiedono. Va bene, va bene, ok, abbiamo fatto il tormentone e così è andata, però c'è stato appunto qualcuno che giustamente ha detto chiaramente tu non sei nella tua posizione perché hai salvato la Isabella, ovviamente no, però a noi ci piace pensare che, beh, innanzitutto diciamo come stanno le cose, lo dico io perché Giovanni senz'altro non lo dice, però in realtà c'erano due barche, c'era Isabella e un'altra barca che stava navigando sulla stessa posizione, quindi era sempre la stessa latitudine ed erano anche abbastanza vicine. In realtà Giovanni, che era molto ben più in su, ha preso, ha girato ed è andato giù a prendere la Isabella. Io sono felicissimo, per carità, è molto fiero di quello, soprattutto in questo momento storico comunque, dove paradossalmente i paesi sviluppati occidentali, l'Europa, ma anche gli Stati Uniti, diciamo così, per la prima volta infrangono il diritto, comunque le leggi del mare, nel senso che comunque fino a pochi anni fa il salvataggio in mare era una cosa sacra e quasi divina, dai tempi probabilmente dei romani, cioè, assolutamente, questo è una cosa di cui andare fieri, cioè, per carità. Poi hai visto, gli Giovanni in realtà ci siamo divertiti, è stata anche, innanzitutto è stata un'ottima occasione per passare i capoorni in due, non da solo. È la prima volta che l'avete fatta in doppio, no? Avevo una cambusa pazzesca, perché avevo vinto la tappa in un'azeranda, e sai che gli italiani che vivono all'estero, quando tu arrivi a Oakland e vinci la tappa del giro del mondo, ti ritrovi per forza tutti gli italiani che vivono in un'azeranda, che ti portano tutti i prodotti più fantastici, no? Non so, i formaggi sott'olio, il vino, piuttosto che le robe fatte dalla nonna, la mozzarella, e quindi io avevo una cambusa che era una roba incredibile con la tappa lì, e Isabella era allucinata, cioè, io gli preparavo gli aperitivi, lei è abituata a mangiare delle robe da troglodita, quale è? Perché, insomma, si sa che quelli sono veramente barbari, figli di Attila. La carne macerata sotto la sella. Grande, Giovanni. Anche dal passato culinario è stata una grande cosa. Ecco, ritorniamo alla domanda che ci ha fatto Davide adesso, appunto, quali sono le misure di sicurezza adottate per evitare l'impatto con i detriti durante la navigazione con i foil? Ritorniamo un attimo indietro a questo tema che effettivamente avevamo detto che prima... Il problema è che chiaramente con i foil le barche vanno anche molto veloce, aumentando la velocità, anche se, diciamo, l'oggetto è relativamente piccolo, può farti tanto male, perché è chiaro che andare addosso a una cassa di legno che pesa 10 kg, quando è a 6 nodi è un conto, se vai a 30 è un altro, no? Per cui, beh, su Maserati noi abbiamo sviluppato questo sistema che è di sgancio dei timoni, gli permette di girare, diciamo, attorno a un perno e di uscire dall'acqua, è chiaramente più complesso, diciamo, di un sistema normale, perché avendo il foil sul timone c'è un momento in cui la pala, diciamo, la pala del foil si mette contro la velocità della barca in qualche modo e fa come da ancora galleggiante e quindi abbiamo dovuto pensare a tutta una serie di cose per riuscire a gestire questa cosa qua. Dopodiché, beh, c'è successo per esempio, durante l'ultima Transpac, di andare addosso a una roba molto più grossa, non con un timone, né con un foil, ma proprio con la prua dello scafetto. Probabilmente, però, non so se era una boa, un container, era qualcosa di veramente grosso, perché la barca è rimbalzata, ha perso, diciamo, un metro di prua, tutto il crash box, eccetera. Però, contro questo oggetto ha girato proprio, la barca ha girato di almeno 30-40 gradi, tanto che poi l'abbiamo presa anche col timone, il quale si è sganciato, ma metà dell'ala è rimasta incastrata in questo oggetto, che purtroppo noi non l'abbiamo visto, perché era di notte, buio pesto, e stavamo andando a 34 nodi. E quindi qua, ecco, questo apre il tema dei cosiddetti, vabbè, UFO, OVNI, come li possiamo chiamare, identify the floating object, che è veramente pieno, vero Giovanni? Beh, diciamo che ce n'è moltissimi, noi ne abbiamo anche filmati molti, molte volte, ti dico, per dire, quando siamo partiti da New York, per fare New York San Francisco, abbiamo trovato addirittura una boa, ma una boa grossa, due metri di diametro di ferro, abbandonata in mezzo al mare, cioè una boa dell'entrata di un porto, fa conto, un rosso. Per fortuna era una giornata con poco vento, abbiamo detto, ah, c'è la boa, però quella boa lì, se la incontri di notte, con 8 metri l'onda, cioè, te la prendi nei denti, vai a fondo, cioè, è la boa, è la boa, ma purtroppo poi c'è una valanga di plastica, breti, cime, galleggianti, di tutto, cioè, bollente, lampade. Siamo arrivati un po' a un punto importante, anche dire qual è la situazione, visto che tu non solo hai fatto regate, ma hai avuto modo, appunto, con le regate e anche diversamente, di girare per mari, oceani, e vedere le zone anche più distanti da noi, qual è la situazione che tu hai incontrato? Ma sai, in una situazione ovviamente nel mare, diciamo, in Pacifico, nel Mar della Cina, eccetera, è molto drammatica, sicuramente, perché si vedono veramente tante cose, eccetera. Un po' è dovuto al fatto che comunque, tra gli uragani, i tifoni, gli tsunami, cioè, tu immaginati quando passano un uragano in un'isoletta del Pacifico, si porta via tutto, e tutta quella roba lì finisce in mare. Un po' è dovuto anche alla cultura della gente, no? Perché uno dice, ah, ecco, i cinesi, che zozzoni, buttano tutto in mare, cioè, ovviamente loro sono arrivati al consumismo così sfrenato molto da noi, hanno probabilmente un po' meno sensibilità, però io, ecco, comincerei a farci noi un po' di, come dire, un po' di analisi, no? Perché anche noi non scherziamo mica per niente, cioè, fino a pochissimo tempo fa avevamo le città senza depuratori, abbiamo fatto sparire le navi piene di veleno davanti alle coste italiane per anni, senza che nessuno dicesse niente, cioè, ne abbiamo combinate di cotte di crude, alla fine, se si va a vedere il fondo del mare nello stretto di Messina, sembra una discarica, ho visto un video fatto da un sottomarino, è impressionante quello che c'è sul fondo del mare mediterraneo, ma veramente impressionante, per cui, in realtà la situazione è drammatica dappertutto, il Mediterraneo comunque ha un livello di plastiche e microplastiche molto alto, cioè non possiamo pensare di essere molto meglio, di quei mari lì, purtroppo anche quei mari lì sono completamente pieni di plastica e di rifiuti che non ci dovrebbero essere. Ci ha chiesto, infatti ci ha fatto una domanda Mirko, ci ha chiesto, ecco, hai mai visto le isole di plastica? Probabilmente sì, le isole di plastica in realtà non esistono. Cioè, diciamo che quello è un modo di dire che semplifica una realtà molto più complessa, l'isola di plastica è un luogo dove c'è una concentrazione molto alta di plastica, che è in genere sotto mille forme, cioè può essere oggetti mughi e medio piccoli galleggianti, oggetti più grossi, oggetti magari invece piccolissimi. il punto è che c'è una concentrazione di plastica molto alta. Nadia ci diceva che hai detto che hai trovato anche una cabina telefonica. Sì sì, ma ho trovato un boiler per esempio, siamo sfrecciati di fianco a un boiler molto grosso arrivando alle Hawaii, arrivando alle Hawaii per dire, cioè uno si immagina alle Hawaii post incredibile, eccetera, eppure non è così. Ovviamente, diciamo che da uno studio che è stato fatto, appunto noi sappiamo, la previsione ahimè tragica è che nel 50, nel 2050, il peso della plastica che sarà nei mari di tutto il mondo sarà maggiore del peso invece dei pesci che saranno all'interno di tutti questi mari, quindi è una cosa impressionante. Anche perché anche quello è un tema, nel senso che continuando così di pesci ce ne saranno sempre meno. Certo. Ecco questo, esatto, questo comunque apre appunto al tema dell'ambiente. Io volevo farti una domanda appunto sull'attualità, e cosa ne pensi ad esempio del fenomeno Greta Thunberg, dei Fridays for Future, e comunque per fortuna della rinnovata attenzione dell'ambiente, che sono in alto le nuove generazioni stanno mostrando. Cosa insegni tu ai tuoi figli ad esempio, tu hai quattro figli, cosa gli insegni su questo? Ma guarda, cioè è chiaro che l'ambiente è un tema fondamentale, anche perché si tratta del futuro, e di un futuro che comunque sarà molto difficile, insomma, perché basta pensare a quello che abbiamo fatto al pianeta negli ultimi 80 anni, insomma, che 80 anni per un pianeta come la Terra non sono niente, sono un battito di ciglia, però 80 anni fa era totalmente diverso, c'era baia di spezie, era un altro posto, potevi fare il bagno nei fiumi, il bagno dove ora ci sono i porti, potevi mangiare qualsiasi cosa senza preoccuparti, potevi andare a caccia, cacciavi perché era pieno di animali, cioè 80 anni fa era un'altra cosa, per cui in 80 anni siamo riusciti a fare un macello in tutto il mondo, un macello globale pazzesco, pensa solo alla quantità di plastica che c'è in giro e al fatto che in realtà abbiamo iniziato a produrre plastica in maniera diffusa, e usarla per cose diciamo molto diffuse, insomma poco tempo, pochissimo tempo fa, ma veramente pochissimo tempo fa, cioè negli anni 50, abbiamo iniziato a fare la plastica così, prima c'erano altri materiali che comunque erano biodegradabili in qualche modo, o comunque insomma non erano così eterni, per cui è ovvio che una sensibilità ai temi ambientali deve per forza arrivare, o quelle buone o quelle cattive, nel senso che se non arriva perché la gente si sensibilizia, arriverà perché la natura a un certo punto si incasserà e li sensibiliscono. E i tuoi figli tu cosa insegni? Il punto è che cosa possiamo fare? Secondo me possiamo fare tendenzialmente la cosa più importante è partire da noi stessi e dai nostri consumi, per cui ai miei figli io cerco di insegnarli quello, cioè che comunque prima di tutto bisogna pensare bene quando consumiamo, cosa consumiamo, perché lo consumiamo, e sono bei discorsi, però poi alla fine quando gli implementi nella vita quotidiana ti rendi conto che il 90% della gente no, li girano i coglioni, io per esempio quando vado in crociera su una barca da crociera, mi rifiuto di comprare l'acqua in bottiglia, cioè mi rifiuto perché sulla mia barca c'è il dessanizzatore, io mi bevo l'acqua dessanizzata con i miei colleghi atleti tutta la vita sul trimarano, non vedo perché io devo arrivare in Grecia in 10, in vacanze e portare lì ogni volta che mi fermo sbarcare 40 bottiglie di plastica, è una roba che a me manda fuori di testa. Eppure un sacco di miei ospiti pur essendo persone evolute, politically correct, colte, preparate eccetera eccetera, loro l'acqua però se la comprano perché, hai capito? Perché alla fine rinunciare anche a tanto così della tua comunità, della tua comunità, si fa fatica, e purtroppo è come una storia di riscaldamento, cioè è facile fare tanti bei discorsi, il punto è che bisogna tenere sti cacchi di riscaldamenti bassi, però lo abbassi il termostat e poi tua moglie ti rompe i coglioni e lo rialza, e quindi io gli insegno ai miei figli, che alla fine se non si soffre, non soffre, ma bisogna imparare a rinunciare a un pochino del nostro comfort perché altrimenti non sopravviveremo, punto. Ok, siamo sommersi letteralmente dalle domande, ce n'era una bella che ha fatto il Polito Sailing Team, ovvero il team del Politecnico di Torino, ecco, che sono specializzati nella costruzione di barche eco fondamentalmente, e ti chiede, secondo te il mondo della vela si sta muovendo abbastanza per ridurre il proprio impatto ambientale? Ma guarda, secondo me no, sicuramente no, ci sono tantissime cose da fare, ben vengano barche ecologiche, io sono spaventatissimo da quello che succederà nei prossimi anni, quando bisognerà rottamare tutte le barche moderne in plastica, insomma io vado in giro in crociera con una barca che ha 50 anni, è una barca di plastica e secondo me vivrà tranquillamente tra i 300 anni, non so se posso dirlo di tutte le barche che sono state costruite negli anni, diciamo dagli anni 90 in poi, perché chiaramente la barche è diventata un prodotto un po' più di massa e per cui è stata fatta anche con una qualità e un target molto diverso, per cui queste barche che sicuramente tra 30 anni saranno dei 14, sarà molto difficile gestirle, e quindi il tema comunque della fibra di vetro, della fibra di carbonio eccetera eccetera, e dei compositi in generale, della resina in generale, è un tema spinosissimo. Detto questo, ecco, quando mi giro e vado in giro per Porto Mirabello e vedo che su dieci barche, nove sono motoscafi, adesso non è per averci a quei motoscafari, la vecchia di Atriba, la solita vecchia di Atriba, ma anche le barche moderne, quelle grosse, tetra, cioè così, voglio dire, non puoi andare in giro con un aggeggio che solo per stare a tenere le luci accese, quattro cagate, consuma 50 ampere a 24 volt, perché sei un troglodita, cioè non hai capito un cacchio. Io spero che la cultura diventerà una roba per cui avere quel tipo di oggetti lì, non sarà più figo, ma sarà proprio da rimbecilliti, imbecilliti, quale cosa che... Nei commenti c'è anche... Per andare a fare il bagno, brucia 3.000 litri di gasolio in due ore, cioè, boh, no. E anche quello andrà a finire. 200 litri di gasolio, 200 litri di gasolio, sono quei bidoni, quelli larghi così, alti un metro, che ci sono ogni tanto nei posti industriali. Tu prendine 10 e dagli fuoco, quelli sono 2.000 litri di gasolio che stanno bruciando. Ecco. Cioè... Hai ragionissima. Grazie per queste parole. Secondo me, Paolo, potremmo passare un attimo al momento fotografico. Facciamo vedere qualche foto e la storia di Giovanni e la commentiamo insieme a lui. Quindi io chiederei alla regia di partire proprio dai primordi. Eccola là. Questa è una barca ecologica. Ma c'è ancora lo scafo? Ma... Ma me lo sono venduto. Allora, io non la vedo. Quella vedete? Fai Junior. Sì, sì, io la vedo benissimo. Spero che lo vedano tutti. Finalmente lo vedono tutti. Fai Junior sul Lago Maggiore, è corretto? Mi sbaglio? Ma mi sa che lì era Malelba. Ah, Malelba. Benissimo. In che anno? Aspetta, tu, allora, descrivici chi c'è nella foto. Sei tu con i tuoi fratelli, no? Sono io con i miei fratelli, io sono quello di mezzo, ovviamente. Cavolo, stiamo parlando del 68, del 69, quindi avrei avuto tre anni. Esatto. Ti manca il Frank Junior? Beh, il Frank Junior è stata una grandissima barca, certo. Vai, andiamo a... Alta carrellata, vai. Vabbè. Vediamo cosa arriva. Vediamo cosa arriva dalla regia. Eh, è il capitano i coraggiosi, eh. È qua, Giovanni? È qua. Ero un bambino. Felice e contento che mi portavano ogni tanto in barca i miei genitori. Ma tu, già, già, qui, in questo sguardo qui, cioè, tu guardavi il mare e cosa pensavi? Cosa c'avevi in testa? Speriamo che non si ribalta, pensavo. Vai, andiamo avanti. Non è proprio così, dai. Ecco, è. Questa... E questa era, anche lì, una foto di una crociera con mio padre, mia madre e i miei fratelli. Ai tempi, avere, appunto, è stata sicuramente un'esperienza bellissima che abbiamo potuto fare per qualche anno. Mio padre aveva questa... quest'Alpa 1270, e noi avevamo in giro quando ci portavano, perché poi ai tempi i genitori non erano come quelli di oggi, che sono tutti... I tempi loro non c'erano le vacanze con i loro amici, ogni tanto portavano anche i figli, capisci? Ma tu ci vai sempre in crociera adesso? Hai del tempo per riuscire ad andare in crociera? Eh, beh, certo. Io quando vado in vacanza vado in crociera. Quali sono i tuoi luoghi must? Ma dipende. Dai, dai, è il luogo più bello. Molto in Grecia e poi in Italia, poi in genere mi porto la barca in Grecia e quindi faccio dei trasferimenti un po' veloci, diciamo, tra l'Italia e la Grecia. Ma su che barca? Su Helmos Fire, su Ocean 72. Ok, stiamo avanti, vai. Stiamo avanti. Eh, anche qui, beh, piccoli marinai crescono. Qua dove eravamo? Non lo so, forse andrà a Mare Baleari o qualcosa del genere. Ogni volta era un'avventura sapere dove eri. Sì, anche lì. Una volta era un po' diverso. Esatto. Eh sì. Infatti era stimato. Era proprio stimato, appunto. Sì, sì. Beh, in questo caso no, perché chiaramente si vede che qualcosa si vedeva a terra. Però sicuramente c'è tutto un know-how che negli anni si è perso molto, no? Certo. No, ma io intendevo quando tu facevi appunto una attraversata verso le Baleari, era proprio stimato. Dio dire, a volte speravi di arrivare a... Ci aveva a staffare un radiogognometro su cui passava le ore. Sì, sapeva, ma poi ti metteva lì 12 ore prima a cercare il faro. È una roba lì. Meraviglioso. Vai, G, andiamo avanti. Carelliamo. Ok. E questa qui è veramente finissima. Un po' caraibica questa, no? Eh sì. Avevo 17-18 anni, ero a Cuba e con Vittorio, Malingri, eccetera, avevamo questo centro di turisti a Caio Largo dove portavamo in giro i turisti dell'hotel. In questa foto io mi ero preso una settimana molto wild con un paio di amici e ero andato a perdermi in queste isole deserte lì in mezzo alle mangrove che ci sono in quel posto che sono pazzesche. E qui sei a bordo di un pirogone? Sì, sì. Avevamo fatto una settimana a bordo di un pirogone fuori stagione praticamente vivendo di pesca e riso in piatto. Questo è veramente into the wild. Ma scusami, io ho visto un'intervista tua su Marie Claire dove ti chiedevano continuamente che attore ci vedresti a interpretarti. Tu gli hai risposto male a un certo punto. Che attore, secondo te, ti dovrebbe interpretare? Ecco, così ti rispondi a male stavolta anche a noi. Dai, dai. Spero di non esserci. Meraviglioso. Vai, a proposito, abbiamo parlato di Vittorio Malinghi che è il tuo grande amico che è anche il grande amico del giornale della Vela. Andiamo nella foto successiva. Ecco, se non sbaglio c'è qua. Qui, dove eri? Tu sei al centro, dove eri? E chi è con te? Quello è una offer che ho fatto io nel 92 e c'era Franco, tutto a destra che è stato sicuramente per me un secondo padre forse il primo padre nautico sicuramente poi c'è il ciccio, Franco Manzoli e poi c'è Mauro Melis a mia destra il Vittorio e poi invece dietro di me adesso ho un lapsus non mi ricordo più come si chiama però invece era un super amici anche lui aveva fatto la vostra grande squadra Vai! Ecco, sì. E qui arriviamo al tema dello sponsor Wanted vai Paolo racconta un po' raccontateci un po' come Beh, insomma lo sponsor poi è la parte più importante per chi fa delle scelte come la scelta di Giovanni Giovanni ha fatto una scelta ben descritta nel suo primo libro che è nel blu e quindi voleva dire io voglio andare voglio girare voglio fare voglio essere anche da solo e controllare la barca e fare la grande navigazione e nel momento in cui parti con l'idea di fare regate devi anche trovare qualcuno che ti sponsorizza e credo che quello non sia uno dei problemi più grossi e tu l'avevi risolto in maniera tra virgolette simpatica col fatto che c'era un certo gruppo di persone che ovviamente ti erano amiche si sono date disponibili per permetterti di sviluppare questo discorso questo soprattutto poi con Stupefacente credo che però se ci dicessi un attimino che cosa vuol dire per una persona come te andare alla ricerca continua insomma di qualcuno che riesca a fare mecenate in questo caso su questo tipo di attività il punto è quello che invece non bisogna cercare un mecenate ma bisogna cercare bisogna capire come riuscire a fare un business del nostro mestiere e questo è una cosa poi certo bisogna trovare le persone che ci credono e non è per niente facile anche perché le aziende hanno tanti problemi e per un manager alla fine è molto più semplice di dire vabbè mi compro una pagina sul corriere faccio pubblicità in televisione eccetera eccetera e i miei soldi li spendo così così non rischio niente eccetera è ovvio che investire dei soldi in una sponsorizzazione è molto più rischioso perché chiaramente il tuo partner rischia insieme a te può essere molto più vantaggioso sicuramente perché in fondo anche la mia storia ne è testimone però ci deve essere dietro appunto del coraggio da tutte le parti e anche capacità di gestire la cosa insomma che non è banale certe volte nel caso di questa foto questa barca in realtà l'aveva comprata un mio armatore che però mi ha detto guarda io compro la barca però ti do una lira e io ho fatto come prima regata ho fatto la bolda car e ho chiamato la barca sponsor wanted perché avevo bisogno assolutamente di soldi ero talmente strapelato dormivo sempre in barca non c'avevo una lira neanche per piangere guarda le vele erano le vele di servant soft che avevano fatto il giro del mondo che tutti alla fine mi aiutavano e quindi grazie all'aiuto di tutti alla fine sono riuscito non solo a farla la bolda car e a farla bene perché fa conto che non mi hanno fatto neanche pagare l'iscrizione alla bolda car perché sono andato lì da Silvie che era il capo del UNSEL che era un national corso large che organizzava la regata e gli ho detto guarda Silvie io non ho una lira mi spiace ma costava tipo 6 milioni e gli ho detto figurati 6 milioni se c'è io mi compro Genova e lei alla fine ha detto vabbè dai parti lo stesso e così ho fatto la mia prima regata in solitario è stato bellissimo e appunto è stato possibile anche perché un sacco di gente mi ha aiutato da cosa nasce cosa bellissimo andiamo ancora avanti andiamo avanti scusa Paolo no certo stavo dicendo e poi è proseguito ulteriormente e qui siamo su Kodak facciamo vedere pure ecco Kodak è proprio nato da una grossa collaborazione da parte di un gruppo di persone di amici conoscenti e così via è tanto è vero che la storia è andata che allora Sponsor Wanted dopo che ho fatto la Vol da Car poi dopo sono tornato in Italia per tre mesi ho cercato soldi come un disperato ovviamente non ho trovato quasi niente ho trovato Via Gidea il signor Busco Scuro che l'avevo chiamato proprio guardando le pagine gialle facendomi pagare passare la segretaria dicendomi no no ma io devo parlare col capo facevo così cioè prendiamo le pagine gialle chiamavo e alla fine sono venuto a farmi passare miracolosicamente questo signor Bosco Scuro di Via Gidea che mi ha concesso dieci minuti sono andato lì l'ho convinto ed è stato un mio sponsor per tantissimi anni e siamo diventati amicissimi ed è grazie a lui in realtà che poi ho trovato Kodak poi Misco poi è arrivata la Misco dopo la Boldacar per fare la Oster la Quebec Semano eccetera Misco era in realtà un signore che Bruno simpaticissimo con cui siamo rimasti amicissimi fraterni che che avevo conosciuto a Cuba e che avevo portato in giro in barca a Cuba e lui aveva visto la copertina di Bolina con su scritto Sponsor Wanted mi ha cercato lui e alla fine mi aveva dato mi aveva sponsorizzato con questa azienda per fare la Oster e la Quebec Semano poi la Quebec Semano sono naufragato verso la chiglia senza barca eccetera il mio armatore padrone della barca aveva i suoi problemi non voleva più sapere e lui mi aveva un po' un'idea appunto di fare questa associazione con con tante persone tutte quelle che mi avevano sempre aiutato che conoscevo eccetera che praticamente diventavano soci e poi potevano prestarmi dei soldi esatto in tempi non sospetti diciamo e così ho messo insieme un discreto gruzzoletto con per costruire Kodak che in realtà è nata come stupefacente perché poi oltre a quello appunto l'ho costruita in una comunità di dipendenti sì infatti questo era anche il nome infatti è geniale beh superfacente è geniale è sviluppata appunto in un cantiere che poi ha dato credo ha dato modo a persone di riviedere anche un po' la loro posizione relativamente al problema delle droghe quindi mi ricordo che appunto questa associazione si incontrava nella vecchia sede della Lega Navale di Milano in Via Lentasio nella sala riunioni di questa dove appunto c'erano le discussioni sul come riuscire a portare avanti il progetto progetto che però è arrivato ed è stato anche in questo caso un successo ti devo ricordare vedi ti avevo accennato prima quando eravamo fuori campo prima di iniziare quando tu eri a Portolotti che stavi mettendo ti stavi preparando insomma per per le regate c'è stato appunto un momento dove io ho avuto il piacere di salire su su Kodak perché una sera era anche abbastanza tardi e buio stavi mettendo in ordine qualcosa sul computer che c'era qualcosa che non funzionava io ho cercato qualche modo di darti una mano e senz'altro non è funzionato ma questo è un altro discorso e a parte e in quel momento lì io facevo a regate sul profilo che era un IMX e un X412 e mi pare che in quell'occasione come è successo anche in altre occasioni tu avevi avuto modo di poter passare qualche notte sulla barca per fare più in fretta e per poter lavorare più facilmente al tuo Kodak quindi mi lega a te questo momento questo ricordo cosa è successo dopo con Kodak quindi arrivata la barca e poi cos'è che intanto l'abbiamo costruita ed è stata già quella un'avventura e un'esperienza umana veramente che non mi scorderò mai che mi ha segnato per tutta la vita e che considero forse la cosa più bella che ho fatto perché era bello tutto era bella la barca bella la situazione era bello tutto sono stati anni veramente entusiasmanti e niente ho fatto Kodak che praticamente ci vivevo sopra appunto sono riuscito a trovare Kodak grazie a a Bosco Scuro di Viaggidea che mi ha trovato un contatto e sono andato a parlare col capo del marketing che alla fine insomma ha accettato la mia proposta ha fatto una prova facendomi per qualche mese ma poi abbiamo fatto il Varo poi ho vinto la Roma per due insomma alla fine non si poteva più curare dietro abbiamo fatto il giro del mondo come Kodak è stato il mio primo giro del mondo bellissimo anche quello super emozionante con dei grandissimi concorrenti perché c'era comunque Van Den Eden c'era un sacco di gente fantastica c'era già Isabel c'era Christophe Hogan un sacco di gente che mi ha insegnato tantissimo David Adams che era il mio diretto concorrente che poi alla fine mi ha battuto che anche lui mi ha insegnato tantissimo sicuramente e niente è stata una bellissima avventura poi scusami da quello che tu scrivi la cosa più bella in tutto questo percorso che tu hai fatto con Kodak mi è parso di capire e il fatto come diciamo nel gruppo la famiglia diciamo così dei regatanti del tipo dei regatanti in solitario e così via si fanno sempre in quattro per dare una mano e questa è una cosa importantissima cosa che non si vede abitualmente anzi normalmente nelle regate così di che si svolgono qui nelle nostre acque c'è sempre un po' come dire il dente avvelenato tra uno e l'altro invece lì grande disponibilità e grandi aiuti eh sicuramente quelli sono stati anni irripetibili da questo punto di vista perché appunto fare il giro del mondo in solitario era ancora buona cosa per pochissimi e alla fine sì ci si aiutava tutti e poi il boc era una regata speciale perché innanzitutto c'era Mark Schrader che era il direttore di regata che era una persona fuori dal comune bravissima con un'attitudine veramente fantastica per i concorrenti eccetera e poi il fatto che c'erano tante tappe cioè tante tappe alla fine c'erano tre tappe insomma però tu ti ritrovavi la tappa dopo aver passato magari un mare del sud mille avventure una depressione fiolentissima e tutti insieme sta cosa comunque ti lega no una cosa che per esempio manca al globe cioè il fatto che tu comunque cioè il fatto che ti rincontri a Cape Town e stai insieme un mese poi ti incontri a Punta dell'Est e stai insieme un mese poi ti rincontri l'arrivo stai insieme cioè sono cose che alla fine crei delle amicizie indissolubili cioè io per dire con tutti sono da Van Den Eden a Gianluca scusa a Isabelle cioè ma anche tutti guarda veramente è stata un'esperienza umana prima di tutto stupenda per cui poi questo questo sicuro quindi tutti salutavano e boh c'era un bello spirito ma scusami ecco di Van Den Eden dopo abbiamo già parlato esiste ancora qualche tuo sogno non realizzato cioè ti faccio un esempio nel 2011 avevate preso la barca per fare la Volvo Ocean Race ma lo vedremo prima o poi Soldini alla Ocean Race vedremo sarà dura vedremo se non vedremo vedremo perché i budget sono sempre più importanti e le aziende sono sempre più tirate in Italia ce n'è sempre meno il mercato italiano è sempre più marginale questo è anche un dato di fatto e per cui non è semplice non è facile è molto difficile perché comunque per fare un Ocean Race anche andare lì a farli scappati di casa ci vogliono 5-6 milioni insomma c'è gente che probabilmente va lì con 15 con 20 e quindi è dura sono tanti soldi bisogna venderne di roba per fare 6 milioni di utili è vero questo è vero dopo di che passiamo a fila è giusto per per fare una una sequenza per ritornare poi di nuovo vicino a noi però dopo l'esperienza di Kodak si parte con una esperienza successiva con un progetto forse questo un po' più ancora più professionistico rispetto a quello precedente beh fila è stata una grande sfida perché è stata la prima barca innanzitutto il primo 60 piedi diciamo aggressivo e competitivo costruito in Italia in assoluto ma poi è stata la prima barca al mondo da nascere con la chiglia basculante e l'albero alare cioè era il 1997 ragazzi c'era tanto tempo fa e quindi super super sfida e lì è stata moltissimo la vicinanza di Andrea Romanelli che mi ha che mi ha dato tantissime cose mi ha cambiato proprio anche cioè mi ha dato la sicurezza e la determinazione per fare certe scelte anche molto se vuoi un po' azzardate per i tempi sì oltre a dire che la barca che era progettata da Finò però a questa progettazione e alla realizzazione del tutto ha partecipato appunto Andrea in maniera attiva e diretta eh sì no Andrea era per Finò era l'uomo di Finò che seguiva il mio progetto diciamo poi chiaramente era prima di tutto un mio amico avevamo navigato insieme fatto avevamo vinto la Quebec Semalò con stupefacente avevamo fatto tante cose insieme avevamo fatto due o tre oceani lui nel frattempo aveva fatto la mini per cui era ai tempi diciamo che i giovani del gruppo Finò erano un certo Guillaume Verdier e un certo Andrea Romanelli eh sì eh sì scusa una domanda un po' quanto ti manca Andrea? Beh moltissimo anche perché se ci fosse stato negli anni a venire chissà quante ne avremmo combinate eh sì purtroppo sì io direi credo che stiamo andando verso la fine del nostro incontro è corretto? mi dici anche tu? Sì sì abbiamo ancora una decina di minuti ecco io sicuramente avrei voluto approfittare un attimo per chiedere andare un attimo fuori tema per un attimo e chiedere a Giovanni Soldini cosa fa Giovanni Soldini quando non va in barca ok? la tua giornata tipo quando non devi pensare alla barca ma eh dipende il genere è giusto delle cose per esempio eh mi sono dedicato ho dedicato un po' di tempo in in questo a un certo punto quando la barca non era ancora in cantiere a restaurare una vespa un restauratore ti definisci ti definisci un restauratore seriale esatto sì mi piace molto aggiustare le cose eh anche se non sono uno strapreciso eh per carità però sono uno che mi piace eh mi piace aggiustare qualsiasi cosa e quindi in genere me la cavo a Cuba a Cuba era il responsabile del parco motorini del esatto giusto mettevi a posto i motorini quindi insomma vedo che mantieni la la posizione scusa solo un attimo Eugenio volevo soltanto salutare una persona che ho visto che salutava Giovanni e che vorrei però salutare che è Gianni Cariboni che è un signore che è un signore ciao Gianni è quello che ha fatto la vita di fila è appunto sto dicendo è un signore che sa il fatto suo da questo punto di vista eh prego scusa Eugenio ti ho interrotto lo stavo portando fuori tema cioè è vero che c'hai un trattore ti piace stare sul trattore c'ho anche un trattorino sì ma semplicemente perché la mia casa è è in campagna e quindi il trattore fa comodo ogni tanto vedi qua Tiziana dice vedi ah bene restauri delle cose anch'io allora abbiamo qualcosa in comune grazie di seguireci Tiziana ascoltami ti faccio ancora qualche domanda di quelle stupide giornalistiche chi è il tuo mito eh dal punto di vista eh velico se devi individuare una persona chi è il tuo mito tantissimi per me ci sono tantissimi velisti pazzeschi eh sicuramente Christophe per esempio Gen per me è stato uno che ha fatto veramente ha rivoluzionato il modo di andare in bar che è stato il primo per esempio a navigare senza i tangoni a avere dei dei triangoli di prua molto grandi a mettere l'albero molto indietro insomma a fare tante cose che poi hanno caratterizzato gli anni futuri ma ce n'è tanti non so Juayon per dire sicuramente è un velista che che rimane secondo me negli annali della storia ha fatto delle cose pazzesche ed è anche uno che mi è molto simpatico per il modo con cui ha fatto le sue cose in Italia invece? beh in Italia ce n'è tantissimi anche in Italia cioè io non so ho avuto la fortuna anche ultimamente di navigare con con tanti velisti bravi e trovo che non abbiamo niente da invidiare a nessuno il problema è che manca un po' il sistema no? come invece c'è in Francia però per dire boh da Vittorio Bissaro Ruffolo che è venuto la media di Sirense come lo chiamo io ma lo salutiamo Lorenzo Bressanigand ma c'è Ivaldi che è venuto in barca con noi su un monoscafo ma boh non so adesso ce n'è una riga di velisti bravissimi quello che forse manca un po' appunto è un sistema un po' più sistematico per approcciare forse la vela la vela più oceanica no? è quello quella è una roba che che in Francia c'è molto di più in Italia forse adesso si sta muovendo un pochino ma ma e ancora abbiamo molta strada a fare c'è una forte credibilità vai 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 Paolo scusami c'è una forte credibilità in Francia relativamente al discorso della vela e soprattutto della vela diciamo così d'autore perché appunto quando sei alla partenza di queste regate la maggior parte della plotta è francese però se noi calcoliamo che ogni barca ha la necessità appunto di avere qualcuno che utilizza l'occasione per la sua sponsorizzazione beh i risultati sono evidenti cioè la differenza è evidente mi pare no ma certo ma in Francia c'è tutto un sistema che parte dal Figaro dai sistemi dai centri di allenamento dalla mini eccetera 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 e arriva ai mega molti scafi al Van de Globe eccetera eccetera ma e chiaramente c'è anche una cultura delle aziende a comunicare in maniera diversa c'è tante cose c'è tante cose ti faccio ancora due domande perché me le avevano chiesto di farle allora tanto chi è la persona che non porteresti mai a bordo con te c'è una lista allora ma io sono un tipo tranquillo vuoi dei suggerimenti per caso secondo me ecco la porterei ecco chi è che non porteresti scusa e non l'ho sentito Salvini no e invece chissà come mai chissà come mai non la penso come lui neanche un po' Trump lo porteresti neanche Trump poi gli parte il parrucchino è un problema esatto ascoltami ancora una cosa relativamente al tuo orecchino è vero che te l'ho rimesso proprio senza ghiaccio da avere i due proprio da solo senza ghiaccio senza ghiaccio non mi ricordo no mi sono fatto il buco da solo quello si si perché l'avevi dichiarato in un'intervista si si ce l'avevo c'avevo un tappo di bugero mi ricordo è un ago non fatelo a casa eh ragazzi anche se passate capo ora non fatelo a casa ma si oppure fatelo fa lo stesso dai non è che poi sia così tremendo o scherzo no non fatelo non fatelo a casa la domanda di Nadia con che barca hai conquistato tua moglie eh adesso non penso non è che proprio sia molto barcaiola per cui penso che boh sarà stato un acceccamento momentaneo era sotto effetto di di stupefacente ecco era così benissimo andiamo a concludere allora mi pare che ci hanno dato il tempo Eugenio grazie sì sì assolutamente tanto ringraziamo Giovanni perché è stata una chiacchierata bellissima e diciamo proprio a ruota libera come volevamo che fosse e ringraziamo i tantissimi che ci hanno seguito i tantissimi che ci hanno commentato vi ricordiamo che ovviamente questa diretta la potrete vedere su tutti i nostri canali sul giornale della vela sul facebook del giornale della vela su youtube insomma ovunque fondamentalmente ovunque grazie per essere intervenuti così tanti ma soprattutto grazie alla Lega Navale di Milano e grazie a Giovanni Soldini veramente grazie Giovanni grazie a voi a presto ci sentiamo dai ci sentiamo presto e speriamo con delle belle novità dai ti vogliamo vedere bello carico ma è carico mica l'abbia visto scarico basta non farlo arrabbiare esatto no no anche farlo arrabbiare è divertente come ci hanno detto ciao buona serata ciao 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 ciao